Questo corso è destinato a giovani, anche meno giovani, che sono interessati ad approfondire, sviluppare, migliorare le tecniche audiovisive di ripresa e di montaggio o di realizzazioni di reportage che già magari fanno per loro conto oppure in appoggio a delle tv private o anche a delle reti televisive. Quello che cercherò di fare nella selezione dei candidati è cercare di creare un gruppo omogeneo con delle competenze, diciamo, presso a poco omogeneo perché non vorrei lasciare indietro nessuno e neanche spingere avanti chi vedo che è più bravo, ma un'equipe che possa lavorare insieme anche perché le lezioni hanno uno sviluppo teorico ma poi anche hanno uno sviluppo pratico perché saranno intercalate di 15 giorni l'una dall'altra e in questi 15 giorni occorre lavorarci sopra e poi il lavoro che è stato fatto verrà poi confrontato fra gli altri e con gli altri in modo da imparare anche le qualità, imparare gli uni dagli altri le cose migliori che sono state fatte oppure là dove bisogna migliorare.